Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla FIPILI dove a causa di un incidente al chilometro 52 si registrano due chilometri di coda tra Montopoli-Valdarno e Ponte del Rovest-Ponsacco in direzione Mare. In A15 invece per traffico intenso rallentamenti tra UL e l'allacciamento con l'A12 in direzione la Spezia. Treni si segnala che nella giornata di oggi per il ripristino della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Navacchio sono previste numerose cancellazioni per i treni provenienti e diretti a Pisa Centrale e Lucca. Il dettaglio sui nostri canali social. Nella città metropolitana di Firenze oggi è la giornata della partenza del Tour de France in tutti i comuni metropolitani interessati dal passaggio della corsa. Sono previste modifiche alla viabilità e al servizio del trasporto pubblico locale e per il momento è tutto Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Un viaggio!